Buona domenica ad Agropalati! Oggi era prevista una giornata molto molto piovosa, contemporane, acquazzoni, ancora nulla. Incompleta seccità quest'anno. Anche il nostro torrente delle coserie è quasi in secca. È la prima volta che capita. Per essere in questo periodo pochissima acqua. Stranamente non piove mai. È così purtroppo. Il tempo è cambiato, però che dobbiamo fare? Sto svuotando il mio congelatore perché mi serve spazio, quindi quello che trovo cucino sempre. Adesso era rimasta un po' di pesce di questo Natale, delle spigole. Sto cucinando in umido. Ho preparato il sughetto con pomodorini e ciliegino. Ho messo anche del prezzemolo, del sedano, un po' anche di alloro, dell'aglio, olio e ex legge d'oliva, un po' di pepe nero. Poi vengono adagiati completamente conservati i pezzi. I pezzi erano già stati puliti. Basta girarli qualche volta e si può anche mettere il coperchio. Se oggi mangiamo a base di pesce, anche perché i gatti stanno veramente scarpitando fuori. Anche una gatta che qua, che io gli do una mano da qualche anno, ha messo la luce un po' di gattini. Anzi, è sul travaglio proprio. Nel caso in futuro abbiate bisogno dei gattini, fatemelo sapere. Comunque io comunicorò, comunicorò dei video stata facendo. Vi farò vedere poi questi gattini. Ancora addirittura non ne ho visti. Lascio la privacy. Ecco qua. Adesso io alzo un po' la fiamma. poco poco si sfregano e possiamo mettere anche il coperchio così si possono cucinare in maniera più omogenea. Massimo 10-15 minuti sono pronti, non di più. Adesso io lascio così, poi ancora faccio altre girate e nel giro il massimo di 15 minuti il piatto è pronto. Vi saluto e buona domenica a tutti quanti voi.